Ciao a tutti ragazzi sono Aloha Aloha ed oggi volevo proseguire nell'intento di farvi vedere un po' le mie varie collezioni oggi volevo appunto fare quella degli anime ribadendo però due concetti importanti ovvero sia il primo che non è grandissima però dai qualcosa c'è quindi meritava di riapprodare sul canale dopo veramente tanti anni che non la facevo vedere e in secondo luogo ci tengo anche a dire che la qualità è bassina anche perché qua siamo proprio in un angolo quindi poca luce ma spero comunque che si veda discretamente bene partiamo da qua dove abbiamo i tre box che comprendono la serie completa dei cavalieri dello zodiaco devo dire un'edizione fatta molto bene l'anime penso lo conosciate tutti penso valga la pena anche di essere rivisto visto che nel prossimo anno dovrebbe uscire appunto la versione netflix in cgi ma insomma questa tuttora devo dire che è ancora molto godibile sotto invece c'è l'unico box della prima stagione dell'attacco dei giganti che mi era anche piaciuta molto però poi non ho più preso le stagioni successive ammesso che siano uscite in dvd qui da noi ma penso proprio di sì passando lì in angolo abbiamo il volume unico di storia dell'animazione giapponese che ovviamente non è un anime ma è appunto un libro appunto di un autore italiano molto interessante devo dire penso si possa trovare ancora anzi dovrebbe esserne uscita un'edizione riaggiornata che riassume un po' la storia appunto dell'animazione giapponese io lo trovai molto interessante qualche anno fa invece abbiamo vari film più che altro più che serie all'inizio c'è appunto evangelion i due film che tentavano un attimo di chiudere la prima serie appunto la prima e unica perché insomma c'era stata un po' la polemica che era diciamo inconcludente quindi fecero quei due film che appunto tentavano di dare un po' una spiegazione finale soprattutto the end of evangelion e dai li trovai abbastanza interessanti tutto sommato abbiamo poi Un'estate con Coe film che non vedo da tantissimo tempo ma che mi era piaciuto abbastanza devo dire poi vari film dello studio Ghibli che penso conosciate a memoria quindi non voglio neanche perderci troppo tempo insomma non sono tutti anzi sono pochini in realtà ne devo recuperare molti altri alcuni li ho visti e magari non ce li ho cose così però in linea di massima i film dello studio Ghibli sicuramente meritano tantissimo in generale sopra c'è anche il primo film di Ghost in the Shell l'unica cosa che tra l'altro ho visto io di questo franchise e devo dire che mi era anche piaciuto molto il film di Akira qua appunto in una edizione di qualche anno fa in Blu-ray per Dinit recentemente ne hanno fatta una anche col ridoppiaggio e tutto quanto mi piacerebbe vederla perché comunque ho sempre sentito che c'erano delle polemiche sul doppiaggio di questo quindi la riguarderei volentieri dopodiché c'è Wolf Children film bellissimo ragazzi mi è sempre piaciuto questo devo dire Tokyo Magnitude 8.0 una miniserie di 11 episodi mi sembra ma molto bella devo dire era stata parecchio interessante quando venne trasmessa su Rai 4 ormai diversi anni fa e Jinro anche questo film fantastico che vi consiglio di recuperare molto potente ma davvero maestoso qui abbiamo appunto la serie classica di Evangelion anche questa penso non abbia bisogno di presentazioni così come Cowboy Bebop in due box di entrambe queste serie penso abbiano fatto delle edizioni più recenti qui abbiamo Fullmetal Alchemist la prima serie che venne fatta se non sbaglio nel 2002-2003 quegli anni là molto bella secondo me anche se ovviamente non andava a concludere tutta la storia dell'anime ma anzi riproponeva proponeva un finale abbastanza differente seppur bello secondo me quindi niente mi dispiace che viene un po' snobbata questa prima serie proprio perché dopo hanno fatto la Brotherhood che sicuramente è meglio però io a distanza di tanti anni devo ancora vederla e non so se mai la vedrò abbiamo poi Conan il ragazzo del futuro intramontabile classicone di Miyazaki bellissima anche questa vale sempre la pena di essere vista e poi Kenny il guerriero serie conosciutissima qui in due box perché gli altri due che dovevano comporre tutta la serie grazie agli amato video non sono mai usciti quindi ringraziamola e vedremo se usciranno anche magari per l'edizione successiva che uscirà a breve che io di sicuro non comprerò almeno finché non li vedrò uscire tutti unico box che riassume tutta la serie di Masonicoco in un sacco di episodi mi sembra 96 bellissima comunque devo dire la vecchia serie di Jojo diciamo della terza serie di Stardust Crusaders sempre per gli amato video un tempo di Jojo a livello anime esisteva soltanto questa serie qua che in realtà sono vari episodi oav poi va bene gli ultimi anni hanno fatto tutte le serie fatte bene e tutto quanto però appunto quando iniziai a leggere io Jojo c'era solo questa ed era solo questo il punto di riferimento animato per Jojo e poi c'è Orphan, lo stregone serie appunto anche questa tra le tante che vennero trasmesse su MTV al loro tempo ma che in realtà tra le tante per l'appunto non era sicuramente quella che spiccava di più l'ho presa soltanto perché tutti e sei i DVD costavano 10 euro e quindi per questo ne è valsa la pena andiamo qui sotto dove c'è il primo box, il Lupin III, la prima serie mi piacerebbe anche che facessero quelli delle altre perché recentemente appunto hanno rifatto questo ma io vorrei che appunto rifacessero almeno la seconda che secondo me è molto meritevole ma per adesso ci accontentiamo di quella dopo che qua uno scaffale per lo più dedicato a Dragon Ball di cui abbiamo lì in angolo i film appunto della prima serie i primi 10 DVD della prima serie e poi i restanti DVD della prima serie appunto nei vari cofanetti dietro invece c'è tutto Dragon Ball Z nei vari box e anche dietro questi DVD qua ci sono i vari film appunto di Dragon Ball Z che non sto a farvi vedere perché insomma fidatevi della mia parola comunque vabbè Dragon Ball e Dragon Ball Z sono la parte diciamo animata dell'originale manga di Akira Toriyama questo penso non ci sia bisogno di spiegarlo e comunque sono delle serie ancora belle oggi bisogna dire qui abbiamo che cosa che cosa abbiamo qua abbiamo un film di One Piece Gold che credo sia ancora l'ultimo che hanno fatto credo non ne abbiano fatti altri e abbiamo gli ultimi invece due film di Dragon Ball Z ovvero sia Battle of Gods e La Ressurrezione di F che però appunto rimarranno gli ultimi appunto di Dragon Ball Z perché il prossimo che uscirà invece con Broly sarà invece intitolato Dragon Ball Super se non sbaglio andando sotto arriviamo alle grandi delusioni perché qua abbiamo la serie incompleta di Lady Oscar dietro c'è la serie incompleta di Sampei la serie incompleta di Lupin appunto questa la seconda serie con il film verde contro rosso la serie incompleta ancora una volta di Kenny Guerriero non la completerò mai questa la serie incompleta di Warframe qualche DVD di One Piece un DVD di Naruto uno di Yu-Gi-Oh! il film la prima stagione di Yu-Gi-Oh! e il film di Cowboy Bebop vi chiederete perché tutto questo macello di serie non completate il problema si chiama Edicola ed è un luogo dove io non comprerò mai gli anime perché ogni volta iniziavo varie serie e non ne concludevo neanche una quindi ragazzi consiglio spassionato non cominciate serie in Edicola se non siete certi di trovare poi tutti i DVD che se no rimanete fregati come me e avete uno scaffale di roba occupata che non serve a niente bene ragazzi direi che il video può chiudersi qua breve ma efficace mi auguro direi che ci possiamo beccare al prossimo video sperando che non sia una collezione perché ne ho abbastanza per il momento ci vediamo raga da alohaloha